Questa mattina c'era anche una delegazione del Vallo di Diano alla manifestazione sulla sicurezza dei lavoratori promossa dalle sigle sindacali CGL e Will della Campania. Una manifestazione finalizzata a chiedere l'adozione di misure che, a parere dei sindacati, possono fungere da garanzia per i lavoratori dei vari comparti per una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. I dati delle morti bianche, infatti, per gli organizzatori necessitano di interventi urgenti e mirati al fine di far sì che il lavoro non si trasformi in un rischio. Da qui l'iniziativa che tra le varie piazze coinvolte ha visto anche Salerno e Piazza Mendola, protagonista dell'iniziativa che questa mattina si è concretizzata con uno sciopero generale di quattro ore in tutti i settori privati a cui hanno aderito lavoratrici e lavoratori compatti e tra i quali erano presenti anche esponenti e rappresentanti delle sigle sindacali del Vallo di Diano, oltre che lavoratori e lavoratrici del territorio. Lo sciopero è stato indetto per dare forza e voce alle richieste della CGL e della Will, richieste che riguardano cinque punti sostanziali. In primo luogo la necessità di combattere con determinazione le morti sul lavoro, che per le sigle sindacali deve diventare un vincolo per esercitare l'attività di impresa. Le sigle chiedono inoltre l'istituzione di una patente a punti per le aziende, una nuova riforma fiscale che alleggerisca il gettito IRPEF dei lavoratori dipendenti, ridurre la tassazione sul lavoro dipendente ed inoltre chiedono anche che il Governo rimetta al centro delle politiche economiche e sociali il valore del lavoro e a tal fine chiedono il rinnovo dei contratti nazionali ed una legge sulla rappresentanza. Queste dunque le richieste che hanno portato allo sciopero di quattro ore indetto dai sindacati e che questa mattina, 11 aprile, ha visto anche Piazza Mendola a Salerno, sede della manifestazione della durata di quattro ore, nel corso del quale tanti lavoratori, alcuni provenienti anche dal Vallo di Diano, hanno incrociato le braccia. Grazie.